Ricorre oggi il 43esimo anniversario del sisma dell'Irpinia. Erano infatti le ore 19.34 del 23 novembre del 1980, quando una scossa di magnitudo 6.9 provocò ben 2.914 morti, più di 8.000 feriti e oltre 280.000 sfollati. L'epicentro fu tra i comuni di Teora, Castelnuovo e Conza della Campania e ben 679 furono i comuni colpiti. Da allora, il 23 novembre, è un giorno impresso nella memoria di quanti hanno vissuto quei 90 secondi che scossero la terra e la vita delle persone. Anche a Cava dei Tirreni la scossa lasciò un segno indelebile. Nella mente di chi ha vissuto il tragico evento è vivido il ricordo di un boato, dell'illuminazione pubblica che improvvisamente vi è meno, e il grande spavento delle persone che fuggono all'impazzata tra le macerie in strada. Cinque furono le vittime in città. A causa del crollo di un palazzo in Via Alfieri, persero la vita quattro persone. A Santa Lucia numerosi edifici non restero al sisma e sotto uno di questi una donna rimase uccisa. Oltre 60 furono i feriti. Anche i monumenti simbolo della città riportarono ingenti danni. La chiesa di San Francesco risultò completamente distrutta e solo nel 2009 i cavesi hanno potuto ammirarla nuovamente in tutto il suo splendore. Le lancette dello storico orologio di un duomo, gravemente danneggiato, per lungo tempo rimasero ferme alle ore 19.34. A complicare la situazione fu l'inna di guatezza della macchina dei soccorsi, incapace di fronteggiare l'emergenza. Il primo a porre l'accento in maniera decisa sulle negligenze fu l'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che dopo un viaggio sui luoghi della tragedia, compiuto il 25 novembre, in un accorato discorso in tv, denunciò con forza il ritardo e le inadempienze dei soccorsi. Talvolta le tragedie, però, sono anche un monito per l'umanità, ad agire diversamente per essere pronti ad affrontare e preparati le emergenze del futuro. La consapevolezza dell'inadeguatezza dei soccorsi fu lo sprone del processo, che ha determinato la nascita dell'odierna protezione civile.